Comunque io adesso vorrei dire una cosa a Manuela, no? Oh, caro Manuela, dai! Ah, più che dire qualcosa a Manuela, volevo, visto che è sempre lui quella intervista, io volevo farvi intervistare il fidanzato di Manuela e dirgli, mio caro Luigi, potresti descrivere in quale modo riesci a stare lontano da questa persona con il V, tanto tieni, eh? Questa lontananza come... Lontananza è difficile, c'è una canzone di Modungo, la lontananza, è molto difficile sopportarla, il telefono comincia a togliarlo, vorresti distruggerlo, però allo stesso tempo ti accorgi che è l'unica salvezza. Come descrivi la tua vita a Roma a una persona che abita così lontano da te? Come gliela descrivi? Ecco, gliela descrivo, cerco di essere molto dettagliato perché voglio... Ma tu non lo sei mai dettagliato?